so pronto so pronto so carico oggi sfida contro multiversa nel pugilato lo voglio sfondare lo voglio buttare giù ragazzi oggi è il giorno giusto per buttarlo giù ma che ce l'hai capito come ma sei arrivato già e ce l'hai con me so pronto eh ma per cosa? di quanto li indossano? per fare cosa sei pronto? come per fare cosa? in palestra? in palestra? in palestra? in palestra banca piana ah ma fa prima sfida da bodybuilder proprio k o banca piana allora io direi di fare una cosa va bene mi tolgo un attimo i contori allora sfida in palestra dove dici che mi sfondi e tutto quanto va bene sfida in palestra 15 mila like entro mezzanotte facciamo lo sparing di pugilato quindi sfida di pugilato mi piace ok va bene mi piace quindi cominciamo nel tuo mondo ok ma tu sei sicuro di fare questa cosa qua non voglio spaccare tutto ok siamo pronti per questa sfida sei pronto sei carico? molto carico molto carico io direi di partire dalla banca piana che comunque è spinta è il tuo forte cioè uno dei tuoi punti dove comunque è la torte quanto proponite di andare? questo corporeo questo corporeo quindi intorno agli 80 kg stiamo con gli 80 kg vabbè partiamo con sta sfida però aspetta un attimo esatto c'è qualcosa che non va io vorrei un brio in più vorrei un qualcosa di extra in questa sfida e io devo fare tutto il tempo la sfida oh massa sembro più grosso però eh si no devi sapere l'effetto volumi c'è l'effetto volumi c'è l'effetto volumi perché non giochiamo ragazzi non giochiamo si stringe un botto sulla vita capito sul non giochiamo qui ragazzi partiamo solo carico parto prima io pure casa tua pesi tuoi peso mio parto io si sa che chi parte è svantaggiato mi voleva fregare così sono 90 kg non 80 vuoi arrivare a casa dei latri freschezza vieni in me 3 2 1 via la sfida inizia ora 1 2 vai così 3 4 5 easy work 6 7 8 ti vedo stanco 9 10 ok primo step siamo a 16 secondi 16 bravo così 6 a 37 secondi 38 16 17 vai 42 secondi 18 6 secondi 6 a 50 secondi io a 18 vai così 18 vai così 19 20 20 e stop al tempo stop al tempo non sono per niente soddisfatto ragazzi 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 non sono per niente soddisfatto ragazzi sei non soddisfatto per niente si che rifarai dopo nella prossima sfida come la fammi fare a me è un po' di piana ragazzi in questa sfida ho fatto un grave errore che è quello di fermarmi prima della stanchezza in un momento in cui invece dovevo andare oltre perché un minuto è poco e dovevo dare tutto subito ci siamo ragazzi molti diversa deve battere 20 ripetizioni ci metterà circa 6 secondi secondo me 3 2 1 parte la sfida 1 vai così 2 3 4 vola 5 6 7 8 9 10 11 vola 12 13 bella 14 e 15 e 16 e proprio così 17 mamma mao 18 mi hai rotto 19 mi hai distrutto 21 a casa in 30 veramente mostruoso ragazzi siamo 1 a 0 per lui e avevo detto sarà un massacro sky che questi te la vergogna va sky che questi te la vergogna va vabbè non è finita qui la sfida qual è il prossimo esercizio i miei proponi cosa stiamo fare cosa c'è qua cosa mi proponi quello che ti pari stacco stacco da te se vuoi sempre se vuoi a parte quella io accetto tutto la parte quella per i dischi che dì ragazzi è avuto una sfida molto particolare perché pensavo di fare cioè molto meno di numeri non pensavo di essere così migliorato in panca piano perché mi sto appunto allenando per quello comunque per fare la gara di Endurance quindi ero consciente del fatto che ero migliorato ma non così tanto quindi veramente una sfida interessante ora stacco e io stacco non alleno però appunto mi piace mettermi alla prova quindi vedrò un po' cosa combinerà Simone ragazzi che dirvi ci sono rimasto male nel senso che devo migliorare sulla spinta sulla panca piana e mi aspettavo di più da me stesso sono molto arrabbiato con me stesso e devo dare tutto quindi in questa sfida nello stacco da terra e penso di pareggiare anzi senza penso sicuramente adesso questa la vincerò io ragazzi siamo pronti per questa super sfida parte multiversa 3 2 1 parte la sfida amici 1 vai così 2 vai così 3 non mollare 4 5 bella lì 6 vai giovane 7 8 fammi divertire 9 stai a 20 secondi 10 mi stai stupendo 11 bella lì 6 mamma mao bravo va va con la 17 17 ne voglio 20 mancano 10 secondi vai 18 vai così 19 bella 20 20 precise buono intanto dov'è la mia polverina bianca perché vorrei un altra assaggiata qui ok ci siamo qui c'è mister freschezza ragazzi voi non lo sapete 3 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poi c'è al massimo 10 11 12 ecco fermati 13 14 si deve fermarsi 15 15 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ma posso pure fermarmi il cuore direi è incredibile aspetta che sento un attimo un parere qui che direi regami fermo dicono un'altra qua no ma l'hanno chiesto un'altra lì capito ah ok 1 a 1 vado al centro e direi stupito perché veramente non pensavo cioè a parte per le 31 repesizioni ma in 30 secondi ora l'unico modo per battere ragazzi è le trazioni ma non diciamo io che dire ragazzi mi ha sottovalutato mi ha detto facciamo lo stacco da terra così finisco subito la sfida così vinco subito e invece la situazione è che siamo 1 a 1 è molto tranquillo in questo caso perché è che l'ultimo è trazioni ah il tuo campo proprio esattamente il tuo panico quotidiano quindi ok trazioni in un minuto con 10 più 20 30 kg in un minuto e chi parte? facciamo fare disparo stavolta però fate tu ma veramente paro dispare 5 paro quindi partite 5 dispari finito il video meno multiverse cioè proprio seriamente se poi volete vedere il video perché il cameraman registrerà la parte 2 1 minuto di gloria concentrazione vai per il subiettivo vai 3 2 1 via 1 2 pulite bravo così 3 4 5 bravo così ottimo 6 complete 7 anche con lo sblocco bravo vai così vai così Simo vai 8 9 10 11 12 12 13 14 45 secondi ora 15 ripetizioni in un minuto con 30 kg allora amici abbiamo controllato il replay e ne ho fatte 14 ok ragazzi adesso che la mia sfida è finita fatemi recuperare un attimino mi prendo il mio post workout proteine the way gusto caramelo salato come al solito non sbagliamo mai ragazzi belle fresche e speriamo di vincere questa sfida ragazzi come al solito cin cin ci siamo ci siamo ne voglio almeno 7 3 2 1 infatti la sfida adesso si scoprirà chi è il più forte 1 2 3 dai partito forte 4 5 6 7 ok 7 in 15 secondi sono un po' preoccupato 7 8 si sali tutto 9 9 in 25 secondi ok 1 6 7 10 11 11 oppa 11 siamo a metà strada qui a dura ragazzi 11 37 secondi 12 oh gliene mancano 2 sta a 12 e 15 secondi di tempo 13 va avanti a single alle 13 mancano 9 secondi 14 14 mancano 5 secondi e puoi vincere 5 secondi 4 3 2 1 porca 14 14 14 amici come andiamo avanti qua che io non ce la faccio più questo giacchetto domanda una altranza ah che bello il risultato attualmente è di parità stavamo ragionando un po' che facciamo andiamo avanti ci sono altri esercizi che possiamo fare ci siamo spaccati la schiena ci siamo spaccati la schiena e tutto ci siamo spaccati questo giacchetto abbiamo deciso appunto di fare direttamente su ring è tutto su ring su ring ci sfoghiamo comunque amici spero che questo video vi sia piaciuto se volete la sfida su ring vi ricordo di lasciare un buato di like raga tipo 15.000 entro possibilmente entro mezzanotte così proprio esplode tutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cliccate la campanella passate anche nel canale ovviamente di multiversa fitness dove ci sono dei contenuti esplosivi anche instagram i nostri instagram tutto quanto raga simone workout multiversa sbattaloom alla prossima ragazzi let's go us